Che dire, non bisogna mai perdersi d'animo, bisogna quando si è dentro un male, da ogni situazione negativa, saperla, sacrificandosi, impegnandosi di più, trasformare in una opportunità nuova e quindi da un male davvero tirar fuori un bene. E poi, che dire, avere anche capacità di improvvisazione, reagire, essere sempre brillanti, reagire a tutte le situazioni con immediatezza, avere il rispetto degli altri, mettersi sempre nei panni degli altri e avere sempre la voglia di innovare. E poi che altro?